Le aziende energivore e molte delle attività produttive sono al collasso. Siamo davanti ad un'emergenza nell'emergenza ed occorre intervenire immediatamente. Proprio per questo motivo la Lega e il segretario Matteo Salvini ieri mattina hanno presentato in conferenza stampa alcune delle proposte serie e pragmatiche per cercare di fermare l'aumento vertiginoso delle bollette della luce del gas. Occorre fare presto. Siamo davanti ad un vero e proprio paradosso. Le aziende hanno nuovi ordini e sono costrette a chiudere o a fermare la produzione mettendo in cassa integrazione i dipendenti per cercare di sopperire all'aumento della luce del gas. Sono a rischio migliaia di posti di lavoro, la tenuta sociale e soprattutto il patrimonio industriale ed economico del nostro Paese.